Bentornati a Miss Italia nel Mondo in diretta qui dalle spiagge dorate come dorato il vestito della signorina che ho al mio fianco, Cristina Chiavotto, bella come mai. Siamo nel palazzo di turismo di Jesu, il Veneto ci ospita. Ricordiamo che il televoto è aperto, il numero da telefono fisso è l'894003 oppure potete inviare un messaggio al 47333. Mi ricomando, specificate il codice della vostra Miss preferita. Sì. Sì, ecco. Ecco, lo sapevo. Ma cos'è questa musica? Te l'avevo detto che non lo dovevi invitare, io tutti i giorni ti ho detto che quel tipo lì, che è amico suo, ne prendo le distanze. Vabbè, dai, è un mio amico, su, non ti lamentare. Ecco, guardalo qua. Dove, da dove entra? Ma cosa sta facendo? Ma che fa? Fa la reclame pure a telepromozione? No, telefonino, no. Oh, che è? Ma non si può. Per un istante mi ha sembrato riconoscere, non fate scherzi voi. Buonasera, buonasera, ecco, mio amico. Sì, va bene. Io non voglio avere niente a che fare con questo soggetto. Grazie, che carino, grazie. Cosa sta prendendo? In questa bella sacca. Se uno può arrivare vestito da scozzese. For the summer, for you. Sì, for the summer. Massimo, come fa conoscerti così bene? Non posso fare. Barniani, scusi, un attimo solo, perché io voglio andare da questa parte. Scusi, Barniani, ma pensi se io vengo nei Toronto Blizzard a giocare a baschi. Si alzi un attimo, Barniani, venga un attimo. Ecco. Ma no! Scusate, se lo tenga lei, se lo tenga... Andiamo a Muniz, ma guarda un po'. Arriva lo scozzese da lezioni. Non so, era per te, Massimo, non è che lo puoi regalare agli altri. Questa notte... Animal, tell me animal. Animali. Which you want? Leone. Ah? Leone. Serpente. 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 Serpente! Serpente! Ecco. Serpente! Oh no! Thank you! Ma sono incapace anch'io, scusi, eh! Te l'ho detto che un incapace è... Ma che sta facendo? Oh! Mi fa prendere un po'. Il leone è morto. No! Vabbè, qualcosa di più, eh! Non è che può venire in questo spettacolo così. Ok. Look attentamente. Speed. Sì? Cosa fa? Ma che immagine orribile, scusate. Sì, sì. Guarda, tanto lei non muore mai. Le bestie non muorono mai. Vada giù. Piano, eh! Ma quanto dura questo pallincino? Tanto! È lei alto. Ma come è possibile una roba così? Ma che amici frequenti? Ma cosa fai? Che rumore... Io sento dei rumori strani. No, vi prego, no! No, no! No, no! No, no! No, che schifo! Ma perché avrei... Grazie, vabbè! Con questi fiori... Ricordiamo che le nostre ragazze sono rimaste in 24 e arrivano appunto... Sono di origine italiana. Tu, Giletti, ridi, non riesci a smettere. No, io rido. Dopo questa bellissima immagine. Guardate che colpo d'occhio con questi abiti firmati Sash, main sponsor del concorso di Miss Italia. No, sai perché rido? Perché... Perché? Quando la guardo penso all'uccellino di Del Piero. Giletti, conosciamo meglio le Miss! Guardavo Luca Toni! Iniziamo a conoscere le nostre Miss!